Ho rotto il posto, ho fatto un paio di gare col gesso, giocavo ancora a calcio e per giocare a calcio lui era direttore sportivo della squadra del paese e praticamente in piena estate per farmi giocare tutti i ragazzi hanno messo le maniche lunghe e io avevo il gesso sotto le maniche Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contropendenza Podcast ormai stiamo riempiendo questa prima stagione con dei personaggi molto molto interessanti e sicuramente personaggi che possono raccontarci tantissime sfaccettature diverse del nostro sport preferito Siamo sempre qui a Finale Ligure, oggi è domenica, appena qui dietro di noi sotto nella piazza principale di Finale Ligure si sta svolgendo il Torfello delle Nazioni ma noi ne approfittiamo per questo momento di pausa mentre gli atleti sono a percorrere i sentieri di Finale Ligure per intervistare il nostro Luca Braidò Ciao Luca Ciao ragazzi, ciao a tutti Come stai? Bene, bene Com'è andata la gara ieri? Ma la gara no, mi sono divertito veramente un sacco e spero di poter rifare questa esperienza più avanti Quindi si fa fatica anche in enduro? Sì sì, si fa un sacco di fatica Poi la gara... Sì poi è una fatica diversa Grazie grazie Mi piace sentirlo dire anche da te No, c'è chi ne dubita Se tu dici che si fa fatica vuol dire che... Fatica, prima speciale dopo dieci secondi già in acido Quindi... A fuego No, mi ha stupito questa cosa, devo dirti la verità Luca No, cos'era venerdì quando mi hai fatto le prove Quando hai scollinato nel trasferimento dalla fine della 1 per andare alla seconda prova speciale Mi hai detto, cazzarola, ho fatto veramente fatica Allora ho detto, vabbè, anche chi fa cross country compara il mondo Vabbè, su quella salita lì, penso che anche se veniva Absalon dopo le Olimpiadi Faceva fatica Sì, effettivamente è vero No, però fa un po' strano, sai Non so, da persona diciamo normale comunque esterna al mondo dei pro È sempre un po' quella visione, non dico distorta però Quella visione un po' che voi siete delle macchine che è full gas E sì, non fate fatica Magari No, beh, quando ci avete passato durante le prove per andare solo a due Ci siamo rimasti un po' male Noi stavamo camminando, poi ovviamente in una salita Non so che percentuale fosse quella salita lì Però veramente tirava E ci hanno passato pedalando nella città allucinante Però dalle loro facce vedevo che stavano facendo fatica Sicuramente No, beh, sicuramente sì No, mi ha incuriosito la cosa Abbiamo chiesto perché i ragazzi di Enduro camminano su per le salite Mi hanno detto per salvare un po' la gamba No, io non camminavo perché non ce la facevo No, no, ok, ok Però quando abbiamo chiesto questa cosa qua Mi sono rimasti un po' così perché Se io dovessi camminare per 600 metri di dislivello Penso che in bici non ci salgo più dopo Esatto, poi ne parlavamo anche mentre salivamo Perché io non cammino, cammino pochissimo Quindi la cosa di cui discutivamo con Erby è Cavolo però, cioè per fare l'Enduro alla fine Dovresti inserire anche il cammino come operazione Perché ti capita sia È capitato ieri Ma capita spesso che devi camminare Quindi Poi diciamo che ieri era un po' il limite tra la possibilità di pedalare e no Però ci sono alcune gare che proprio è impossibile farle in sella Cioè ci sono magari dei tratti da fare in salita su dei sentieri Che prendi, smonti e arrivi in cima spingendo Quindi magari non so, ci potrei pensare di aggiungere questa retta di camminata Questa passeggiatina per abituarsi Ma con la bici è Un po' di portage Bici sulla schiena Ma dove è che l'hai partita di più, diciamo così, la PS? La 1 o la 2? Nel senso Dov'è che tu hai detto Comunque prima quando ci siamo parlati Comunque quando hai finito la prova eri bello cotto Ma nel senso un rider, un atleta con la tua preparazione Dov'è che ieri è andato in difficoltà? Ma in difficoltà Non proprio in difficoltà No, no, beh In difficoltà sull'ultima speciale Più che altro dopo quattro ore che sei in sella Era difficile riuscire a ritrovare la concentrazione per fare l'ultima Perché è stranissimo per noi Di solito noi partiamo un'ora e mezza Stai lì, il focus è lì Invece qua è molto diverso Fai la speciale cinque minuti a tutta Dopo per tre quarti d'ora pedali piano Anche di più un'ora così Parli, ti fermi, mangi Dopo devi trovare la concentrazione di nuovo Fare di nuovo cinque minuti, dieci minuti Sì, no, è stranissimo E sull'ultima speciale dopo Sì, dopo quattro ore che eravamo in bici Sì, ripartito Ero cianotico Non capivo più niente Mi fa proprio strano sentire queste cose Ma facciamo un pasto indietro tipo di 200 anni Raccontaci un po' dove nasce Luca, la tua storia Quando cominciano ad andare in bici Perché viene o male adesso nel mondo della mountain bike Da quest'anno, vista la stagione incredibile che hai fatto Ormai ti conoscono più o meno tutti Però raccontaci un po' come è nata questa tua passione Quello che è diventato poi il tuo lavoro Ma, vabbè, io Mio papà correva in moto Faceva regolarità E un po' Da piccolino Ce l'aveva comprato Una moto che dividevamo in tre fratelli E Il mio sogno sarebbe stato Sarebbe stato quello di andare in moto Solo che dopo economicamente La cosa era impossibile per noi E abbiamo iniziato a giocare a calcio Che era la cosa meno costosa di tutte Sì, immagino Però continuavamo Vabbè, a avere questo sogno qua E la cosa che si avvicinava di più Era la bici E abbiamo iniziato ad andare in bici La prima gara l'abbiamo fatta con delle BMX Vecchissime che il nostro nonno aveva trovato In un mondizzaio E Niente, abbiamo fatto la prima gara con i nostri amici Che era una gara nel nostro paese a Mossa Era 30 chilometri 30 chilometri di Tipo gran fondo Hai fatto 30 chilometri con una BMX Sì, sì Con il mio fratello con le BMX Ma siamo arrivati gli ultimi Cioè, completamente gli ultimi Hai imparato lì a far fatica un sacco No, lì non mi ricordo neanche Mi ricordo che quando siamo arrivati in Nostra Madre C'era una barretta di cioccolata a testa Abbiamo C'era una barretta di cioccolata Ma no, era stato Sì Adesso non mi ricordo quanti Beh, eravamo giovani, giovani Però era stato veramente divertente E da lì, piano piano Abbiamo iniziato a avvicinarci al mondo E E niente Ci siamo iscritti Hai girato l'angolo e hai vinto in Coppa No, no No, siamo entrati Parlo in plurale Perché tutta la prima parte Della mia carriera Praticamente l'ho fatta come ho fatto lo gemello Quindi, vabbè E ci siamo iscritti a Lucci Caprivesi Che era l'unica squadra Della zona E E da lì Ci siamo rimasti Caprivesi Dopo abbiamo fatto un paio di anni Alla Carraro E di Martino Martino Fruet E Paolo Garniga Era Direttore sportivo all'epoca E sono arrivati Lì eravamo già a junior Sono arrivati i primi risultati E sono riuscito a entrare in forestale E da lì, vabbè, è diventato un po' lavoro Avevo 17-18 anni E da lì Ho iniziato ad essere professionista Ma ti è cambiato un po' quando hai fatto Quel salto A livello mentale Anche a livello di preparazione Insomma A livello proprio di vita Ti è cambiato Pensare Al fatto di passare da Diciamo Atleta Normale Tra virgolette A pro Secondo te Cambia qualcosa? Beh Quell'anno Il primo anno Andavo ancora a scuola E quindi Non era stato Un grandissimo Cambiamento E dall'anno Da quando è finita la scuola Ritrovarsi già con Sì, insomma Ero in forestale Quindi potevo concentrarmi Il 100% Sulla bici E lì Sì Lì ho iniziato a cambiare La situazione Avere tutta la giornata Per sì Allenarsi Dopo poter riposare Recuperare Allenarsi ancora E piano piano Giorni Anni Così Sì È partita un po' Un po' tutto ecco Che figata Momento contemplazione Allora sai Io Adesso che ho nominato Luigi Caprivese È venuto in mente La prima volta Che ho conosciuto Luca e suo fratello Era una gara Villaga Zona Veneto Qua Tobi ha aperto il cassetto Delle gare di cross-garte Ti spiego il perché Mi ha impressionato Perché non so se eri te O Daniele Che praticamente Avete un braccio Uno e due Avete il polso rotto Io avevo rotto Avete il polso Praticamente partiamo Questa gara Che era praticamente Un giro Prima parte di una salita E l'ultima parte Era tutto single track Lui Col braccio rotto Comunque mi ha battuto Quel giorno L'ha detto Che questi qua vanno Vanno sul salito Mi ricordo Vabbè Mio papà E lui Che ci portava Su questa cattiva strada Perché lui Era Sempre Sempre caduto Si è sempre rotto tutto Quindi per lui Un polso era proprio Il minimo Il minimo Delle fratture Che potevi farvi No infatti Mi ricordo che Vabbè Ho rotto il polso Ho fatto un paio di gare Col gesso Tra l'altro Quella lì Giocavo ancora a calcio E per giocare a calcio Lui era Direttore sportivo Direttore sportivo Della squadra Del paese E praticamente In piena estate Per farmi giocare Tutti i ragazzi Hanno messo le maniche lunghe E io avevo Per far vedere E io avevo il gesso Sotto Sotto le maniche E vabbè Niente Così Poi Non ti notava Sai Quella ragazza C'ha il braccio Un po' C'ha le ossa grosse Ragazzo Però ci sta Dici che questa cosa C'è avere un genitore così Un po' matto Un po' fuori Da uno standard Che potrebbe essere Di vita Diciamo Con un passato così Action Dici che ti ha cambiato un po' Anche a livello Di scelte Ma questo Questo non lo so Perché per me è sempre stato Normalità Una cosa normale No dopo Vabbè Adesso l'ho messo un po' così Però è una persona normale No certo Certo Però sai Magari Per qualcuno Sentire che Il proprio padre Nonostante un po' Sotto Dica No vai a correre Vai a Vai a gareggiare Magari può sembrare un po' Un po' fuori dalle righe Però Gli avrei fatto la stessa cosa Te lo dico Ecco Assolutamente Anzi No ho avuti un po' Di compagni di squadra Quando correvano su strada Che si rompevano Magari Il polso Il braccio Con il loro gesto Andavano in bici Allenarsi tranquilli Sì Gli sta Hai avuto tante fratture? Ma Infortuni varie in bici? Sì Quello Per fortuna Non ho mai Avuto fratture Sulle gambe Però sì Ho rotto Vabbè Tutti e due i polsi Più volte Scafoide Tutte e due Clavicole Vabbè Costa Va bene Vabbè Vabbè Ho fatto una brutta caduta Invece Nel 2019 E ho rotto Il Adesso non mi ricordo Vabbè Comunque il cranio Sulla parte sotto Del cranio Lì è stata pericolosa Perché praticamente Ho preso un'insaccata E il cranio Ho sbattuto Sulle vertebre E per fortuna Le vertebre sono Rimaste intere Che è una cosa stranissima E ho rotto Vabbè Il cranio Indietro Ed era un giorno Che Vabbè Ero ad allenarmi Con mio fratello Il mio allenatore Così Avevamo fatto Tre orette E a fine allenamento Abbiamo detto Allunghiamo di qua Così Vabbè Arriviamo a quello Che dovevamo fare E io ero In ultima In ultima posizione Un sentiero facilissimo E niente Devo aver toccato Col pedale Un ceppo Una pietra Così E da quel momento lì Io non mi ricordo più nulla Blackout Sì Mi ricordo Di essermi risvegliato In ospedale Così Però Sì Sono sempre stato Cosciente Ho detto Però Non mi ricordo Non mi ricordo niente Sono venuti Su a prendermi Vabbè Soccorso Soccorso E tempo di recupero Per un infortunio Così In realtà Quello Quello poco Avevo il problema Che essendo Nel gruppo Dei carabinieri Sportivo carabinieri Per avere la Riabilitazione È passato un po' Di tempo Perché vabbè Quando In teoria Essendo Cioè Io dovrei portare L'arma Dovevo portare L'arma Quindi quando Si va a toccare La testa Loro Si vogliono Un sacco Di tempo Prima che Ti ridiano L'abilitazione E quindi In realtà Io dopo poco Potevo già andare in bici Perché Vabbè Alla fine Era una microfattura Non era niente Però per loro Io ho perso Quasi Metà stagione Per questa cosa qua E com'è La vita Da Atleta Di un'arma Di Per esempio Forestale Carabinieri Cioè A livello Pratico A livello pratico Cosa cambia Cioè Diverso dalla vita Di un atleta normale Hai degli obblighi Diversi Sì Ci sono un sacco Di restrizioni Vabbè Io adesso Mi sono congedato Per passare In Santa Cruz E quindi Adesso Sono proprio Corro solo in bici Non sono Non sono un carabiniere Non lo sono più Però Di fatto Nel gruppo sportivo Vieni lasciato Ti lasciano fare La tua disciplina E una volta finito Gli anni La carriera Da ciclista Ci sarebbe L'ufficio Comunque Un posto così Restrizioni Loro Va bene Avevano molte A livello Di sponsor Così E la cosa Un po' più fastidiosa Era chiedere I permessi Per andare Per andare all'estero Quello era un po' Ah devi chiedere Un permesso Sì sì Bisognava fare Per andare a correre O per Sì sì In generale Vabbè Perché ovviamente Lavorano sul Territore italiano Ecco Quando si esce Cioè Ogni trasferta All'estero Dovevi chiedere Un permesso Sì Non lo facevo io Lo faceva il nostro Direttore sport Lo fa Perché vabbè Il team c'è ancora Ovviamente Ok Ma quindi Ci vogliono Un sacco di tempo Quindi per chiedere Questi permessi No in teoria Una volta che c'è Il calendario Viene gestita Ah ok Fanno per tempo Man mano Sì sì esatto Invece Il valore di sponsor Che restrizioni c'erano? Ma Che altro Loro volevano Una divisa Divisa pulita Quindi Con la scritta Carabiniere Belle in grande Ok E Tutto il resto Sì Doveva essere Dei risponsi importanti Per poter stare Sulla maglia Questa era la situazione Iniziale E E dopo Vabbè Altre Tipo Come dire Per Sponsor Extrasettore C'era il problema Che Vabbè Le ditte Dovano essere Pulite Al cento per cento Ah ok Ok Giusto giusto Conflitti di interesse Devastanti Di poter avere L'approvazione Per un sponsor Insomma Bisogna controllare bene Tante cose Ok Ok Vai vai Ervin scusa Il team è comunque Gestito da loro Completamente Anche gli sponsor Cioè Sì Nel senso È Una cosa gestita Completamente Da per esempio I carabinieri Sì Sì E secondo te Perché Fanno un team Di mountain bike Che ritorno Che ritorno ai carabinieri Per fare un team Del genere Vabbè Tutti i corpi Statali Comunque L'obiettivo numero uno Sono le olimpiadi E Il mountain bike È una disciplina olimpica Quindi Hanno la sezione Ok Enduro Cazzo Ciao Ti ci vedrai però Ervin Ervin In carabiniere A fare La divisa La divisa nera A metterle molte Lì sarei bravo Sì Sono il primo Che le prende Quindi So dove Mettere Sai Sai dove cosa fare Ma invece a livello Volevo chiederti Com'è vivere Da atleta pro Che fa la coppa del mondo In giro Per il globo In mountain bike Quanto 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 è dispendioso Energeticamente Non ci faccio neanche a parlare Stamattina Ma no Diciamo che Comunque a me piace un sacco Un sacco girare Ovviamente quando sei Tanto via da casa Si manca un po' Si mancano Un po' i familiari Così Però Stare in giro A me piace Mi piace proprio la vita Da nomade Sì nomade Più o meno Però sì Mi piace Il campo gara Mi piacciono i viaggi Così Vedere anche Posti nuovi Alla fine Perché Non è che Siamo come Non so Calciatori che vanno Nello stadio Giocano lì Nello stadio Noi abbiamo la bici Quando comunque Andiamo in Canada O Australia Così Possiamo girare un po' Nella zona Vedere Vedere i posti lì Quindi Quello Mi piace un sacco Ma Che poi C'è la cosa che secondo me È Figa Tra virgolette Magari È il fatto che Bene o male È una carovana Che si sposta Quindi Penso che le persone Più o meno Che becchi poi Tutte le gare Sono sempre le stesse Più o meno Organizzazione Atleti Più o meno Poi ci si ritrova sempre Sì sì Quello Quello sicuramente E infatti Vabbè Ci sono un sacco Di amicizie Nel paddock Ci sconosce un po' tutti Ho capito E Tra Tra atleti Come Tra pro Com'è Com'è il rapporto Nel senso Ci sono I Vabbè Ormai Tu vuoi parte Dei top Della prima fila Della prima fila Sì La prima fila È un po' Distaccata Modalità VIP Lounge privé Rispetto a tutti gli altri O ci sono anche delle amicizie Tra tutti È super easy Avere connessioni Con gli altri atleti A parte che Vabbè A me È quest'anno Che sono andato Così forte Però prima Era nella parte Ok Quindi No Comunque È super easy Cioè I corridori I corridori Si parlano tutti Uno con l'altro Ci si aiutano Ci si conosce tutti Sì È una cosa Molto molto easy Ecco Ci sono Forse due Tre atleti Che Vabbè Che stanno un po' Per le loro Vabbè E invece Tra i top rider Come sono Vi trovate anche Vi allenate anche assieme Girate O Vi vedete solo alle gare In generale Ma No In generale Solo alle gare Cioè Vabbè Noi italiani Ci conosciamo tutti Tutti bene Uno con l'altro Nadir Gerhard E Avondetto Così Beh Ci troviamo anche spesso Per Per girare in bici E Però No Con gli altri All'estero No Anche perché Vabbè Siamo distanti Ecco Quindi ci vediamo solamente Quando ci sono le corse Chiaro Ma Solita domanda Che ti avevano fatto tutti Da Da due mesi A questa parte No due o tre mesi Quanto è passato Non mi ricordo neanche più Da Da Lensrad Quanto è passato Lensrad era Luglio Luglio Eh Sono passati tre mesi Com'è stata Com'è stata Ma raccontaci Ecco Io Perché Io ero lì Io ero emozionato Io Che non c'entravo niente Era la terza Seconda gara Che facevo con voi Perché se non lo sapete Ragazzi Sono stato con Con i ragazzi di Santa Quest'anno A Nove Mesto E ad Upstad Hai portato fortuna Sì Io non lo so Ad Upstad Non lo so se Upstad Nove Mesto No Nove Mesto Che problemino È stato Sì Beh però Lensrad Quando Sì Quando eravamo lì È successo il fattaccio E No Ero emozionato io Cazzarola Ero lì con il pialo E non stavano più nella pelle Eravamo tutti Impazziti Ma come è stato? Cioè raccontaci Secondo te Quest'anno è stato più Cioè la tua sensazione è stata più Un progredire nelle prestazioni Fino ad arrivare lì Che sei riuscito A Lensrad A fare la stoccata Oppure è successo A un certo punto Hai fatto il click E da una gara con l'altra Hai proprio Aperto il gas No Secondo me Comunque È una Una stagione in cui Ho cambiato molte Molte cose E Ho lavorato un sacco Durante l'inverno Quindi l'avvicinamento È stato Perfetto Non Sono stato anche fortunato Non ho mai avuto Inconvenienti Non mi sono mai ammalato Non ho avuto infortuni Ho avuto Sì niente di Niente Di debilitante Sì esatto È andato tutto Tutto liscio Sono riuscito a lavorare Nel modo giusto E A Lensrad Arrivavo già da un bel periodo Di altura E Sì Sapevo Sapevo insomma Che la condizione Era quella Era una delle migliori Anche mi sentivo Mi sentivo molto bene Dopo da lì A dire di vincere due prove Di coppa Di fila Che era una Io non ho mai vinto In coppa del mondo Neanche da giovane Quindi C'è una cosa Anche per me È stata una cosa Non so Mi ricordo Mi ricordo che Da vederti da fuori Non sembravi molto Molto Diciamo Realizzare Il momento Ci ho messo Veramente Tanto dopo A realizzare Che Che era successo Che era successo A me Veramente Era una cosa Stranissima Non c'avevo neanche mai Pensato Era un po' Il mio sogno Il mio obiettivo Così Però Dopo è successo Tutto in un attimo In una settimana 92 Quando le inseguivo Da Una vita Sì Da dieci anni Le sognavo Neanche Le inseguivo Ma come Cioè Quando Il primo ovviamente La prima che hai vinto Il momento Che tu hai detto Hai capito Cazzo vinco Cosa Cosa ti è passato Per la testa Il momento Che hai detto Cazzo vinco Non c'è stato Perché Sono arrivato in volata Ok Però tipo Tu non ti sei reso conto Ad ogni altro punto Che Cacchio Cioè Quando è stato il momento In cui hai detto Cacchio È lì Quando hai hollato Sopra Sopra Però sai Quando Immagini Quella Diciamo così Quella confusione Sei passato Però non è che ti sei reso conto Cioè No Lì è stata una cosa Veramente Veramente strana Ma Raccontiamolo Dai che Secondo me Tanta gente Non lo sa Non sa neanche Com'è andata Perché poi C'era un buco Televisivo Non si è visto Non si capiva Beh L'ultimo giro È stato Iniziato A attaccare Da subito Flukinger Dopo Nino È stato un giro Tiratissimo Eravamo in tre Dopo ci siamo Un po' guardati E è rientrato Aterly È stato un giro Veramente Veramente strano Di tira e molla Quindi Siamo arrivati In questa ultima zona Di Bosco In quattro E L'ha presa per primo Flukinger Dopo Nino E Nino L'ha subito Attaccato Ed è passato Molto L'ultimo ponte Davanti Avrebbe potuto Era il favorito Per la vittoria Perché la volata Era un po' Un po' Particolare E quindi I loro due Si continuavano A superare Io ero terzo Non ne avevo Per provare qualcosa E stavo aspettando Un po' La mia occasione Io avrei avuto Una cartuccia Penso Per fare un tentativo Però I loro due Ne avevano Ne avevano sicuramente Di più Quel giorno lì E Stavano facendo La loro lotta Io ero lì Un po' Impiccato Insieme Ad Atterley Atterley Probabilmente Stava ancora peggio di me E Niente A un certo punto Nino era davanti E L'ultima parte In cui Si doveva difendere Era passata C'era come Un piccolo Rettilino Di ghiai In salita E Nino Era riuscito A stare davanti E ci aveva provato Flukinger Però Se Nino Ne aveva avuto di più Era davanti E in teoria Da lì Le zone per superare Erano Erano veramente poche E Appena scolinato Sulla salita E là Però Flukinger Si è proprio Infilato dentro Si Ha provato Infilarsi dentro E C'era una leggera curva Sulla destra Prima di un Tratto tecnico Sulla sinistra Era come una Come una S E lui ha provato La S quella sulle radici Quella un po' Bastarde Un attimo Prima di Quella con la doppia linea Che si poteva passare Un po' più larghi Non è che si poteva Non bastava nessuno lì Però C'era spazio a sinistra Però c'era quella specie di S In mezzo ai due alberi Non era quello lì? Non lo so Era come un Tornante Sulla sinistra Con le radici Ah ok 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 ho capito E niente Flukinger ha provato A infilarsi Era un posto Molto Molto Difficile Dove farlo Impossibile Sì non impossibile Però Lino avrebbe dovuto Lasciarlo passare Quando ha visto che Flukinger Si è Ha provato Ad entrare Lui ha Chiuso un po' E Si è soppato a track Si sono toccati Quei manubri E Nino è praticamente Caduto Sotto Sotto A Flukinger Flukinger non è neanche Caduto del tutto E E niente Io Io ero lì Poi Nino si è aggrappato A Flukinger Perché ha detto Sai che c'è Quindi c'è Tavio Sei un amico Io non ho visto Praticamente Io ero lì Tre metri Più tardi Quindi li ho visti Lì che Si sono agganciati Con i manubri E ho detto Forse sti qua Cado E a un certo punto Nino Si è proprio Lì si è completamente Girato il manubrio È caduto E l'è finito Vabbè Sotto a Flukinger Come ho detto E Io ero lì Ho frenato E sono riuscito a passare Fra Nino E la sua bici E E lì Ormai mancavano Penso 500 metri All'arrivo Forse 400 Anche meno E Sapevo che Vabbè Insomma La posizione migliore Lì era Quella Di stare davanti E appena Sono passato Ma lì Appena hai visto Che erano caduti Gli hai dato del gas No Ho perseguito Così No Io sono passato Il mese Per 10 secondi L'ho già raccontato Anche ai miei amici Così E per 10 secondi Non capivo più niente Sbagliavo tutto Cos'è Questa era una bici Sì ma per fortuna Era impossibile Superarmi Perché Io penso che Atali Detto di me Avrà detto Ma che Cosa sta facendo E niente Dopo Ho ritrovato La concentrazione E sapevo Sapevo benissimo Come Come gestire La volata E Lì dopo Non ho sbrigato Niente Anche se Atali Comunque Un ragazzo Molto veloce Probabilmente Più veloce Di me Però lì Veramente Ho poche Possibilità La volata Se non l'avete mai vista È in salita Su una curva destra E arriva da una galleria Subito dopo una discesa Su questa passarela Su questo ponte Quindi se uno sta a destra In teoria È difficilissimo Che venga superato Perché Quello che deve Superarti Deve fare Molta più strada E stare molto più largo Quindi fa Molta fatica Sì esatto La volata È lunga Però Sì esatto Mentre la curva È sulla destra Se sei attaccato Al transenno Insomma Il ragazzo Che ti deve passare Sulla sinistra Deve fare Abbastanza più metri Infatti Mi sono creato Adosso per te Quando tu Non eri proprio Contro contro La transenna Ma eri un metrino Un po' più in centro E al posto di girarti A sinistra Per vedere Se c'era Aterrizziato a destra Ho detto No Luca ti passa Eh no Io ho guardato All'interno Per vedere Se era lì Se era lì Era complicato Invece lui Era sinistra E lì Mi sono sentito Abbastanza Tranquillo Abbastanza sicuro Che figata Cazzo Pazzesca Ma quando siete in gara Gomito a gomito Riuscite a capire L'altro come sta Di energie Se è in forma Se ne è ancora Se ne avete più Se ne hai più te Rispetto agli altri Se uno è finito In completo Ma diciamo che Lo puoi provare A immaginare Dopo in realtà Non lo puoi sapere Quindi è sempre meglio Fare i conti Su se stessi Che guardare gli altri Se inizi a guardare Gli altri Dopo diventa Diventa complicato Perché Inizia a pensare Magari se qua sta bene Se qua sta male Magari Oh è finito A te sembra che stia bene E tu stai lì fermo E non fai niente È molto più importante Tenere il focus Su se stessi Ma a livello invece Di gestione e ritmo Com'è che funziona Più o meno Una gara di cross country Di coppa Perché Almeno anche io All'inizio Avevo questa Diciamo Ho mentalizzato Questa cosa Che si parte a tutta E si arriva a tutta A fuoco Mentre invece magari Non so Ci sono delle fasi In cui Ci si studia Si rallenta Oppure si fa un giro A tutta Poi si rallenta Al giro dopo Ci si guarda Allora Posso parlare un po' Un po' in generale Però La parte Si parte a tutta Il primo mezzo Mezzo giro Anche un giro Bisogna A fuoco Sì bisogna Prendere la posizione E Sì è veramente Veramente a fuoco Cioè A tutta proprio Dopo in genere Sono Verso metà gara C'è un piccolo Che Le posizioni Sono stabilite Diciamo C'è una piccola Fase di studio Si mangia Si beve Si cerca di stare Più concentrati Su queste cose qui E in genere Dopo un'ora L'ultima mezz'ora L'ultimi Mezz'ora 20 minuti Di gara E lì Si decide Si decide Tutto Chi ne ha lì Insomma Sto davanti Ma Chiedo a te La domanda La faccio a te Perché non possiamo Parlare per gli altri Tu studi Una tattica Ben precisa Nel senso Provo a Fare il mio attacco Così O improvvisi Vedi come stanno Gli altri Vedi come si sviluppa Sempre la gara Ma è uno sport In cui Non è che si può Proprio Come ho detto prima Fare affidamento Sugli altri Tante volte Si è sempre a tutta Quindi si gestisce Un po' Quello che è La propria La propria condizione E dopo Come a Lens Ride Quando c'è L'ultimo giro E ne hai Allora Allora lì Inizia Inizia la lotta Però Tante volte La gara O si decide Si decide Prima Tipo Vabbè Carò Quest'anno ha fatto due gare In cui Era Era veramente imbattibile Ciao ci vediamo Alla arrivo Sì esatto Quindi in quei casi lì Dietro è come quasi Una cronometra Cioè ognuno Fa il suo Si segue Questo qua Che Quei giorni Si vede Un puntino Bianco Bianco Rosso e blu Che gira davanti E si va Sì Così ecco Ma invece Come Ti è piaciuto un po' Il cambiamento Che c'è stato Sulle gare Cross country Nell'ultimi tempi Cioè che stanno comunque Sempre più Accorciando Pian piano Sì a me Onestamente Sì Tanti Tanti rider In realtà Non erano Abbiamo fatto delle riunioni Con Vabbè Con i Primi 20 Ranking Così In cui si dava Un po' I consigli Cosa E Io sono rimasto Stupito Che tanti Tanti rider Preferirebbero Tornare le gare Un po' Più lunghe A me In realtà Piace molto di più Anche penso da vedere Sì è molto più bello Vedere una gara Di È più Spettacolare Mi ricordo che una volta Erano quasi anche Due ore e mezza Vorrei dire Esatto Adesso comunque Il livello Si è un po' Cioè Il livello si è alzato Ci sono tanti Tanti rider Differenti davanti E su un'ora E venti Comunque si riesce a stare Davanti in più Quindi Gli arrivi Sì anche quest'anno Insomma A parte Queste due gare Di Carò Sono sempre stati Sono giocati Sempre all'ultimo giro Ecco quindi Così secondo me È più bello Fighissimo Cioè le gare Secondo me Adesso come adesso Mi piace più vedere Una gara di cross country Che una gara di DH Quasi Perché è molto più combattuta Se la giocano Tutti lì All'ultimo Cioè ve la giocate Non è che se la giocano Ve la giocate all'ultimo È molto più figo E soprattutto se poi sei lì Sul percorso A vederla E capisci quanto è dura E faticosa Eh sì Anche perché prima Sull'ora e mezza così Anzi più di un'ora e mezza Era un'ora e mezza Un'ora e quaranta Arrivavano uno alla volta E Si riusciva a fare di più Di più la differenza E Sì C'erano le gare C'era Bo Arrivavano Nino Absolo E dopo gli altri Erano Erano lontani Adesso Sì Ogni gara C'è un atleta Infatti secondo me Anche quello è figo Perché non c'è Il dominio magari di uno Ma Per chi vince Sempre bene Se si riesce a vincere Di più Però Per lo spettacolo Comunque Per far crescere lo sport Secondo me Avere questa Non dico Livellamento però Più possibilità per tutti E Anche più spettacolare Da vedere Anche gli anni in cui Non so Shurter o Absolo Erano Super Diciamo così In palla e in forma Sì Imbattibili praticamente Sono quasi Iniziavano tutte le gare Praticamente Sì Sì Infatti Realmente vedevi qualcun altro Sì Ho iniziato Ad esserci tanti A cambiare un po' I vincitori in Coppa del Mondo Da Da due o tre anni È arrivato Koreskin Ha vinto un paio Gear Up Una vinta una E sennò prima Erano tutte Iniziavano tutte Onino Preparavano già la bandiera svizzera Lì sul podio Già la mattina Sì Ma ci prendiamo questa No Ci sta Ci sta Ma E quindi adesso Non mi ricordo più Che cosa volevo chiedere Io avevo in mente Tra quattro domande Ho fatto un mix di tutte Nella mia testa È diventato un casino Io ne ho uno Ah No Vai 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 Tobi Cosa ne pensi invece Dei rider Multidisciplina Cioè per esempio Non so Matthew Van Der Poel O Tom Pitco Che riescono comunque Ad essere Vabbè A volte fanno degli errori Però nel senso Riescono comunque Ad essere competitivi E avere una stagione Veramente folta Cioè Geocross Strada Cross country Secondo te come fanno? Beh Ho fatto solo due nomi No no esatto Non vuol dire che ci sono solo due persone Che fanno Che fanno questa cosa Anche io la penso come lui No beh Sono dei fenomeni Cioè Quindi pensi che in futuro Ce ne saranno sempre di più? Ma No non credo Non è per tutti No esatto Secondo me Veramente non è per tutti Tu non hai mai provato a correre su strada? Ho fatto un paio Un paio di gare su strada Però Ho preso Sì Ma Dici perché È il fatto che diventa duro per te Fare una gara Che dura Molto molto di più Rispetto ad un'ora e mezza Del cross country Un'ora e venti Del cross country Sì Quale risponde te la differenza? Vabbè A me non piace neanche tanto Anche tanto Allenarmi su strada Mi alleno moltissimi mountain bike Quindi la uso La uso veramente poco Comunque sì È uno sforzo Completamente diverso E dopo Io non ho Non ho mai fatto gare da piccolo Così Di tecnica Fai tanta preparazione O semplicemente Giri in bici No non faccio Non faccio niente di particolare Proprio sulla Sulla tecnica Comunque sì Essendo che Vado Mi alleno moltissimo In mountain bike Quella un po' viene Si la fai girando Allenandoti Sì esatto Poi Vabbè Ci sono le gare Tutte le domeniche Così I percorsi Le prove Tutto Quindi Sì la tecnica Quella non Va persa E giri sempre Con la stessa bici Da Da XC O anche enduro E roba Un po' più Cicciotta E bike magari E bike Sì Spesso Spesso vado in e bike Soprattutto quando Attenzione ragazzi Incredibile Luca vai in e bike Sappiatelo No perché C'è gente che Parli Dici i bike Ci vuole sacrilegio Ancora No beh I bike comunque Fai anche la tua bella fatica Se ti metti lì A tirare Però Io la uso più Come Ad esempio Quando sono Alivigno Comunque in altura Così Magari mi alleno Mi alleno al mattino Faccio il mio allenamento E il pomeriggio Se voglio andarmi a divertire Così sui sentieri Prendo l'e-bike Faccio un due Ok Per non fare fuori giri Sì No Per non fare Proprio due allenamenti Duri Ecco Però la uso Un sacco Anche nei giorni In cui Vabbè Faccio scarico Così Tante volte Ok Beh Questa cosa La sentivo Già qualche anno Che viene usata Tanto l'e-bike Dagli attenti di cross country Anche Sì Avevo sentito Che anche Dopo le gare Comunque Nelle giornate di scarico Tra una giornata E l'altra In coppa Tanti usavano le bike Per Sì sì Tanti sì Io in realtà In coppa Non me la sono mai Portata dietro Per Vabbè Problemi anche Logistici Logistica Così Però a casa A casa la uso Ragazzi Quindi Tutti quelli scettici Mi piacerà tante Che cosa Questa affermazione Eh no Assolutamente Assolutamente A livello di Di miti da sfatare Quando è che Luca Braidò Fa festa? Perché adesso Abbiamo parlato La di bike Che già questo Un bel Un bel mito A sfatare Quando è che In un'atleta di coppa Fa festa? Dagli occhi Secondo me Ieri sera No beh Quando finisce Finisce la coppa del mondo E di solito Finisce la stagione Veramente impegnativa Val di sole Val di sole Val di sole Non era male Val di sole Val di sole è stato È stata dura È stata dura Per la gara E dopo la gara Sì Soprattutto Dopo la gara E ragazzi Non potete capire Sotto la tenda santa C'era il delirio No beh Comunque Siamo comunque Ragazzi giovani Che fanno dei sacrifici E tutta Sì Tutta la stagione Bisogna stare concentrati E quando ci si rilassa Un po' Anche di testa Così Secondo me Fa solo bene Giusto Poi ovviamente Tentate di recuperare Tutto il tempo Che non avete potuto Far festa prima Tutto No Da sola No Anche In genere Sì Dopo due birre In stagione Siamo già molto felici E' figo perché anche economico Allora Esatto Spende pochissimo Ma ti pesa tanto La vita da teta Durante la stagione Di magari dover far dieta Andare a dormire presto Essere spesso stanchi Perché Alla fine Per l'atleta È stancarsi Recuperare Stancarsi Recuperare Ma dipende Dipende dal periodo Quando c'è il periodo Più importante Coppa del mondo A me Sinceramente piace Un po' All'inizio All'inizio Quando si inizia Ad allenare Sì Che non ci sono gare Ancora per qualche mese E Una gamba Che non va avanti Sei un po' preoccupato In quel periodo lì? No Preoccupato no Perché alla fine È sempre così Però Però l'inizio L'inizio è dura Riprendere il ritmo Ecco Dopo quando c'è il periodo importante No Zero Non è Non è un sacrificio per me Anzi mi piace L'unica cosa è Sì E stare in un'altra casa Quello È un po' la cosa più faticosa Però Per la vita In sé Il mangiare bene Andare a dormire Tutte queste cose qui No A me piace Ma fai una dieta Specifica? Hai un Nutrizionista? Sì Io sono seguito Da Laura Martinelli E Sì Ho Ho tutta la mia Ho la dieta In base agli allenamenti Ecco In base agli allenamenti Lei mi dice Cosa Cosa Devo mangiare Invece All'allenamenti Hai la sensazione O sei molto metodico? No No Anche Anche Per gli allenamenti Vabbè Ho il mio preparatore Cicinotta Sì Sono metodico Quando mi devo allenare Mi alleno bene Dopo in realtà Quando c'è il periodo di gare Non è la parte in cui Ci si allena di più Quindi A lì Si recupera Si va un po' più A sensazione Però Invece inverno Molto tabellato Sì Diciamo Inverno E Preparazione In altura Quando c'è quel Mesetto Di preparazione Tosta Tosta Gli bisogna essere Metodici Fare tutte le cose Fate bene Ma tu sei uno che Io vedevo Ho corso Con Faccio sempre esempio Di Sonny Con Coebrelli Lui Secondo me è sempre stato matto Perché Se gli doveva fare tre ore Non ne faceva quattro Se doveva fare cinque ore Non ne faceva sei Se lui usciva magari per fare due ore Incontrava il gruppetto Anche di lettanti Che doveva fare il lungo E lui faceva il lungo Insieme a loro Perché lui si allenava sempre Pioveva E usciva a allenarsi Perché Tu sei uno così O Segui alla lettera Quello che ti viene detto Dal preparatore No Beh Non proprio Non proprio la lettera Però In questo Famoso Famoso mesetto qui A me piace quasi Stare da solo Allenarmi da solo E Fare le cose fatte In modo giusto E lì Cerco di essere Proprio il più preciso possibile Anche perché dopo Da come mi alleno Dipende anche da quello che mangio Da quanto Riposo E tutto E più preciso sei Più riusci a fare le cose fatte bene Ok E se sei da solo Le fai bene Se sei da solo Inizia Ognuno al suo Un po' più adatti Devi fare i compromessi Esatto Quindi Sì Quel mese lì Quindi dici che quest'anno Quest'anno Hai cambiato tanto Quindi sei riuscito a fare Il click in più Facendo tutti questi piccoli accorgimenti Che hanno cambiato Il tuo modo Di prepararti Diciamo che mi sono Sono sempre stato Sono sempre Diciamo Allenato Secondo il modo Che io ritenevo Più corretto E ci ho sempre messo Il cento per cento E quindi anche gli anni scorsi In questi periodi Più tosti Cercavo Cioè Ero preciso Preciso Dopo Probabilmente mi stavo Stavo andando Stavo Non stavo Lavorando proprio nel modo Più corretto Più corretto Però per me In quel momento lì Quello che pensavo È che fosse Il modo migliore Ma Domanda Adesso che hai fatto il click Che sei Nei top Davanti Cambia la visione della cosa Nel senso Non so con chi Ne abbiamo parlato Stare in mezzo Al gruppo E arrivare Non so 20 30 40 A livello di Dico soddisfazione Sì anche soddisfazione Ma a livello anche di preparazione Cioè Cambia Poi Quando sei lì davanti Che ti giochi Le gare Nel senso A fine gara Quando arrivi 25 O arrivi 1 O 2 Cosa cambia Nel senso Ci sono atleti Che sono soddisfatti Di essere arrivati 25 Ma no Non penso che ci siano atleti Cioè Finché non arrivi Primo proprio Vuoi sempre migliorare Quindi Ho fatto una domanda Ma l'ho messo giù malissimo In realtà Non si è capito un cazzo Secondo me tu volevi chiedere Rifaccio Si rifaccio La riformulo Nel senso Tu arrivi 30 35 25 E dici Cazzo No Non è andata bene Non sono contento Devo cambiare qualcosa Nel mio allenamento Se tu arrivi uno Dici Si può far di meglio O Ti fermi lì E dici Questo è il modo giusto Per arrivare davanti No Diciamo Adesso ho capito Sei sempre in sviluppo Nel tuo metodo Di allenamento O adesso c'è una routine Ed è sempre quella Cerchi di rispettarla Perché ti conosci Talmente bene Che adesso Puoi arrivare A un certo tipo Di prestazione Perché Da quello che ho visto Anche negli anni Non so Prendo esempio Di Shooter Secondo me Ha cambiato un po' Il suo modo Di prepararsi Perché le gare Sono cambiate Perché sono arrivati Altri che Comunque Gli davano Fio da torcere Secondo me Vabbè Secondo me Bisogna sempre Cercare di Cambiare qualcosa Perché Non tutti gli anni Non tutti gli anni Sono uguali E quindi Magari quello che Tu pensavi fosse La cosa giusta da fare L'anno dopo Per varie circostanze Non lo è più Quindi Secondo me Bisogna sempre Non Sperimentare Sì Ma neanche Sperimentare Non Io lì Quel giorno lì Ho vinto Perché ho fatto Questo 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 E quindi Se rifaccio Questo 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 Vinco Vinco Sicuramente Non è matematico Sì Non è così Secondo me Quindi Sì Bisogna Sempre Cercare di essere Obiettivi E aperti Perché Sì Cose nuove Si imparano Bisogna a provarle Sì Tutti i giorni E Gli altri Se tu sei primo Magari pensi Ok Ho fatto questo 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 Sono arrivato Primo E devo fare Questo Quello dietro Che ho fatto Secondo Che vuole arrivare Primo Magari ci mette Qualcosa di nuovo Dentro Quindi Sì Bisogna Sempre Sempre stare Attenti E aperti Non pensare Di essere Arrivati Esatto Cioè Quando arrivi Primo Poi A un certo punto Dei comunque Lavorare Per continuare A essere Primo Ma penso Che se sei arrivato Prima Hai già lavorato Tanto Sì Però nel senso Shurter Sta cambiando Costantemente Perché penso Che sì Arrivare Primo È una cosa Ma Continuare A essere Primo È Un'altra È un'altra Esatto Esatto E l'anno prossimo Come ti vedi? Atleta di enduro? Compagnia di squadra? Mi piacerebbe fare Qualche gara in più Però no Ancora qualche anno Dixi Lo voglio fare A fine carriera? Sì esatto Sì no Neanche a fine carriera Magari Crescendo Ah ok Ah crescendo No dai No mi piacerebbe Mi piacerebbe un sacco Però sì Il tempo È quello che è I calendari Sono Stanno iniziando ad essere Veramente Veramente lunghi Quindi Non è facile Ma anche lì La gestione di una stagione intera Tu vai per obiettivi Macro obiettivi O vedi un po' Come va La tua La tua forma fisica Le tue prestazioni Durante la stagione E agisci di conseguenza No beh Si parte con Con un obiettivo Ben chiaro E L'avvicinamento Alla gara Alla gara A questo obiettivo Comunque Il programma Viene fatto su questo All'avvicinamento A questa gara qui E Tutto quello che viene Nel mezzo Sono Sono extra Una cosa che non sono mai riuscito a comprendere Come fanno comunque dei rider A Partire in palla Inizio stagione E arrivare in palla Fino alla fine Che secondo me è la cosa più difficile A mantenere una forma Per tutto l'anno Eh Pensi c'è Cenino E dietro Dietro di lui O vicino di lui Comunque Cambiano molto I corridori Quindi È una cosa in cui Bisogna essere Portati Portati E Sì che non si inventa Da Da un anno All'altro Da un anno All'altro Ok Sicuramente dopo Quando vinci tanto come lui Quella confidenza Migliora Sei più sicuro E tutto Ti crei Un team Un team che lavora con te Che funziona E quindi piano piano Alzi il livello Sì alzi il livello E lo mantieni Più a lungo Ma A livello mentale Che cosa ti ha cambiato Riuscire a vincere Due prove di Coppa del mondo Cioè adesso Le gare Le vedi in maniera diversa Cioè le gare A quel livello Le vedi Le approcci in maniera diversa O è come era prima No cambia Cambia Molto Diciamo Non su come approcci la gara Però sul fatto che Tante volte pensi quasi Che sia una cosa Che capita a pochi Vabbè sono loro Vincono loro E È una cosa La vedi come una cosa Quasi Irraggiungibile Sì irraggiungibile Quasi impossibile E Dopo In realtà A me è successo così Sono arrivato lì Stavo bene Avrei fatto probabilmente Terzo Mi hanno dato Quell'aiuto in più Loro due Schentandosi Salutiamo Ciao Ciao ragazzi Però da lì Vabbè ho vinto Insomma è successo a me Quindi Non esiste più La cosa che succede Solo a loro Che Anche perché Secondo me La differenza è stata che Ok Dopo la gara di Landride Quelli che ci credevano poco Hanno detto Sì Luca ha vinto Perché sono caduti Flukinger e Schurter Ma la gara dopo Li hai bastonati tutti Quindi non ci poteva essere Che conferma Però secondo me Sono stati due eventi Conseguenziali Perché magari Se tu avessi fatto terzo Magari la settimana dopo Non avresti vinto Non avrei avuto Quella sicurezza La forza mentale La sicurezza La settimana dopo Quella sicuramente E a livello di pressione Dopo aver vinto Una gara di coppa Infatti La settimana dopo Com'era? Sei partito tranquillo No a livello di pressione No È cambiato molto Il Vabbè Interviste Tutte queste cose qui È iniziato Vabbè Quello è diventato Prima c'era una routine E quella è un po' cambiata Però a livello di pressione No Anche il mio team Insomma Mi ha isolato bene E ad Andorra Io sono rimasto Lontano dall'hotel Ho dormito Sempre Su in altura In camper E quindi Tutta quella settimana lì Me la sono fatta Su in camper Nello Stain E quindi Loro sono riusciti A tenermi Tenermi tranquillo lì Secondo me Hanno fatto Veramente Un ottimo lavoro Quei giorni lì E quindi Dopo in realtà Piano piano Mi sono abituato Al tutto Da questi piccoli cambiamenti Niente però Come pressione Come pressione Anzi Veniva tutto un po' Più facile Dopo le vittorie E sarà proprio La svolta alla fine Sì Siamo fatto svoltare Anche come persona Alla fine Oltre che come atleta No? Sì Lì Sì cambiano Cambiano un po' di cose Però Viene tutto Per ora È venuto tutto Più facile Ok Dopo Non lo so Magari il prossimo anno Quando arriverò Le prime gare Prenderò nei denti No dai Non dir così Non dir così No no Sono sicuro Che andrà benissimo Anche l'anno prossimo Dai dai Forza Forza Invece Parlando un po' Più a livello tecnico Sulla bici Te sei molto attento Perché conoscendo Avendo visto come lavorate Il tibi Super attento Super scrupoloso Prova qualsiasi cosa Super puntiglioso Tu fai lo stesso O ti affidi magari Un po' di più A quello che potrebbe dire Non so Una figura come lui Che ama provare Tantissime alternative Non so Si inventa anche cose nuove Tu sei così Cioè ti piace provare Anche a casa Quando sei a casa Ma Sì sì Diciamo che Il setting della bici Viene Beh i percorsi Sono sempre gli stessi E il setting Il setting Viene fatto Una cosa molto personale Fra rider E meccanico E Si viene fatto Fra noi due Dopo In realtà dopo Non ci si inventa Quasi più niente Una volta fatto quello Rimangono scritte Un po' le pressioni Anche per l'anno dopo Tutti i click E quindi Se non cambia bici Non cambiano Forcelle così Anche pressioni gomme Tutto Sono già Sono già segnate Quindi Quello lì Cioè cambiate solo Come ho visto Tra lo short track E il cross country Che cambia magari La corona anteriore Cambia il tipo di gomma Per essere più scorrevole Poi però Più o meno Sì Quelle cose lì Sono Sì sì Fondamentali Sì Piccole cose Però Tra una pista e l'altra Non so se corre in America Se corre in Val di Sole Più o meno Il setup è quello No il setup dopo è diverso Però È già segnato l'anno prima Ah ok Io l'anno scorso Ho fatto un sacco di fatica Anche per quello Ho cambiato Vabbè Sono passato in Santa Cruz Bici nuova Tutto nuovo Ho dovuto ritrovare Un po' Il feeling Anche la posizione Sulla bici Sì Tutte queste piccole cose E adesso Se si va avanti Negli anni prossimi Sarà sempre più facile Perché Abbiamo più dati Ecco Ok ok Sì sì Vabbè Tenimetria Segna tante cose Ammortizzatori Affondamento gomma Ok No fa un po' strano Perché Secondo me è molto più Comune Molto più Risaputo Che venga utilizzato Ad esempio In enduro O in DH Ma in cross country Sinceramente Non è che sia molto conosciuta Questa cosa No no Beh si usa Si usa molto Si usa molto Anche perché Enduro DH Vabbè Fai il tempo In discesa E Vabbè Ovviamente importante Però anche in mountain bike Adesso con le full Così Anche avere L'affondamento giusto Il sag giusto Anche in salita E Cioè Fa una differenza Ma lì è un po' Una copertina corta Che devi saper riuscire a gestire Cioè tipo Avere più prestazione in salita E più prestazione in discesa O riusci ad essere tranquillo In tutte le situazioni Eh no Devi trovare un po' Il compromesso Riesci Avere La bc velocissima in discesa E dopo Funziona bene anche in salita Ok Ma quindi Blocchi Ammortizzatore Forca Le utilizzate O no? Bloccato Vai quando c'è Proprio asfalto Così Se no Comunque Mantieni sempre Le sospensioni attive Eh sì Se pensi come In un percorso Ad esempio Nove mesto Così Che tutto Tutto radici Tutta la gara Lì è veramente importante Avere il setup giusto Posso confermare Non vai avanti Cioè proprio Ci sono tutte quelle micro radici Nel sottobosco Che Ti fermano lì E lì avere una telemetria dietro Che Insomma Che funziona Sì Lì Cambia Cambia veramente Usate le musce Nelle ruote? Dipende Dipende dal percorso Però Molto spesso sì Solo davanti C'è solo dietro O anche davanti? Dipende Dipende dal percorso Ok A me non piace moltissimo La musce davanti Mi dà un po' Di fastidio nella guida Però dietro Quasi Quasi tutte le gare Ok Ma più per Sì Per sicurezza Ok Ok Dopo dipende anche dove Dove è il tratto pericoloso Dove si può forare Dove è il box Tante volte le metti su Anche se non ti trovi Proprio benissimo Però sai che Se buchi Magari sei lontano Perdi un sacco di tempo Esatto Quindi dipende anche un po' Dal percorso Anche da quel punto di vista Ok E poi L'ultima cosa Poi vi lascio Alle domande All'infinito Com'è gestire una gara Visto che Ho avuto Il piacere Di provare Tre percorsi Quattro percorsi Quest'anno Tre percorsi Non mi ricordo Comunque Provare alcuni percorsi Della coppa Sulla mia pelle Cross country E posso sicurare Ragazzi Che sono veramente tosti Anche in discesa Come affrontarli A full gas Per un'ora e mezza E gestirli Cioè secondo te Quanto è diventato Quanto è il bilancio Di prestazione Che devi avere Tra discesa e salita La gara La gara si fa Si fa comunque in salita E la discesa Dal mio punto di vista Un po' Da noi È il punto In cui In cui devi riposare E quindi Tante volte Devi gestirla Non per fare Per farla Più forte possibile Ma proprio Riuscire a essere pulito Recuperare Il più possibile E Quindi No perché Su alcuni tratti Che ho provato anch'io Non c'è tanto da recuperare Devi essere veramente preciso Cioè quello che mi immagino Hai fatto la salita a fuoco Sei a 170 wattiti Non capisci più niente Vi state attaccando Cavoli in discesa Magari in alcuni tratti Devi essere proprio chirurgico Secondo me è difficilissimo Riuscire A non fare errori Beh a parte Noi giriamo moltissimo Sul percorso E lo conosciamo A memoria Quando siamo in gara E Veramente lì Chi fa la differenza E chi riesce Non andare giù forte Ma A essere morbido E recuperare Efficace Sì efficace Ok No io c'ho una domanda Ce l'avevi prima O ce l'hai anche adesso Ce l'hai ancora Ce l'hai ancora Una domanda Sulla Su l'evoluzione Dei mezzi Comunque Anni fa In cross country Si utilizzava soltanto Un bici frontino Classico Ok Ora pian piano Ovviamente Si utilizzano le bioamortizzate E ogni anno Comunque Si aumenta Cioè La bici diventa Sempre più Diciamo così Vocalizzata Sull'essere più prestante In discesa Rispetto a come era un tempo Cioè Come la vedi Nei prossimi anni Si continuerà A fare O utilizzare bici Sempre più prestanti Da quel punto di vista O secondo te Siamo arrivati al punto In cui Abbiamo trovato Il giusto equilibrio Ma no Secondo me Si continuerà Andare In quella In quella direzione Perché ancora Cioè Come detto In discesa È molto chiave È un momento chiave Per recuperare le forze E più riesci ad essere rilassato Quando Quando scendi E meglio è Quindi Più una bici è prestante In discesa Più 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 ci sta Più ci sta In comodo sopra Più ci riesci A guidarla facilmente E meglio è Ormai Sì Il frontino Non lo usa Quasi più nessuno Magari vai più forte In salita Però La cosa che vedo Per esempio Fai più fatica Parlando un po' Con le persone Che comunque Nelle gare Di cross country Non vostre Di basso livello Normale C'è ancora Tantissima gente Che Vuole il frontino Perché comunque Ha paura Di Far troppa Fatica In salita Comunque vive ancora Il frontino Come una cosa Diciamo così Un'esigenza L'abici da cross country Però appunto Anche il fatto che Il vantaggio Che ti dà In termini di leggerezza Poi alla fine In salita Cioè in discesa Lo vai a recuperare Più che altro Secondo me C'è una differenza Di percorso Anche Tra quelli di coppa Dipende Da dove corri Se vai saltare I fossi per lungo Una gara Di un regionale Anche se Sono migliorate E sono diventate Un po' più tecniche Sono ancora Easy Abbastanza basic A livello di tecnica No? E adesso È un po' di anni Che non corro più In UNICC Però Mi ricordo Che quando correvo io C'era gente Che univa Con la forcella rigida A far le gare Prova adesso A fare un percorso Di coppa Con la forcella rigida Secondo me La questione mezzo Va Di pari passo Con il percorso Cioè Il cambiamento Dei percorsi E beh come in enduro Alla fine Esatto Cioè adesso Praticamente sono mini di H E le bici sono dei trattori Cioè Hai visto anche tu ieri Beh però Scusami Nell'enduro in realtà È quasi il contrario In che senso? Perché siamo arrivati A un livello In cui Si doveva avere La bici 180 170 170 Nella prima escursione Invece adesso Molti rider Stanno tornando indietro Stanno comunque Vedi bici Da 150 Tranquillamente Sì ma Con le geometrie Io non sono molto d'accordo Tobi Sono dei trattori Le bici che vedi Essere enduro Secondo me è difficile Se ne trovi una o due Con meno di 170 I primi venti Secondo me invece ce ne sono Ok Omega Tower Canyon La Strive La Norco La Nude Proof La tua De Vinci Spartan Per esempio Non viene sempre utilizzata De Vinci A volte utilizzano la Troi Però davanti magari Con la forca 170 Sì sì no Questo dicono Non ho provato la forca Comunque La bici Non è Cioè Ok Non ci troviamo Faremo una puntata Su questo discorso Molto molto volentieri Secondo me abbiamo affrontato Tanti Tanti bei punti Avete altre domande? Tobi? No Sono finite Ne avrei Faremo un altro episodio Con Luca Magari lo andiamo a trovare In coppa E facciamo un episodio Con il team Sarebbe figo Dai 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 Allora organizziamo Così facciamo un altro spiedo Magari Luca Un'altra festina A fine stagione A fine stagione A fine stagione Eh raga Detto questo Ringraziamo davvero Luca Tantissimo per il suo tempo E soprattutto Anche per la sua ragazza Che ci ha aspettato Tutto questo tempo Qui seduta Con noi Luca grazie mille Ancora In bocca al lupo Per l'anno prossimo Ma io Spero di vederti Spero ci vedremo È stato veramente bello Passare questi momenti con te Ed essere soprattutto testimone Di vicino a Bordostrada Facendo le mie storielle Per Instagram Delle tue vittorie Noi ragazzi Ci vediamo al prossimo episodio Continuiamo qui Oggi pomeriggio Abbiamo un altro ospite E ne arriveranno ovviamente tantissimi Perché la nostra lista È comunque sempre in aggiornamento Ed è lunghissima Fate sapere cosa ne pensate Se avete anche altre domande Da fare magari a Luca Siete curiosi di sapere qualcosa Dello specifico O qualche Qualcosa un po' più approfondita Rispetto a quello che abbiamo detto In questo episodio Fatelo sapere qui sotto Siete su YouTube ovviamente E se siete su qualche Piattaforma di podcasting Vi ricordo di seguirci E di iscrivervi anche al canale YouTube Detto questo Noi ci vediamo al prossimo episodio Grazie Erwin Grazie Tobi Grazie Luca Grazie a voi Grazie Andrea Ciao a tutti Buona giornata Ciao ciao